Bella a tutti ragazzi e bentornati in episodio 2 per quanto riguarda l'evento eroi andiamo a completare tutte le sfide del motore, il motore, nuova finestra, puzzle eroi, non ci sono missioni da fare ma bisogna solo raccogliere i pezzi mancanti quindi procediamo con il primo che è un premio gratuito, sono 5 gettoni motore andiamo a riscuotere subito la ricompensa gratuita, poi andiamo avanti con la prima probabilità con passaggi 2 contro 1, molto easy complessivamente il primo episodio per completare le missioni della spedizione ci abbiamo messo 10 minuti adesso andiamo a completare anche questi per vedere poi quanto tempo ci occorre giornalmente per completare tutte le missioni qui in questo evento eroi e anche per vedere come completarle queste proprie abilità, come avete visto questo è molto easy basta superare il portiere 2 contro 1 e andiamo a sbloccare il primo pacchetto che vale 1000 monete e 6 gettoni eroi quindi andiamo avanti con tiri 1 contro 1 anche questo molto easy aspettiamo il caricamento, eccolo qua arriva Holland subito non sbaglio andiamo nuovamente sempre con Holland che non sbaglia neanche il secondo facciamo 1900 punti superiamo anche questa seconda prova molto facilmente e andiamo avanti con il terzo pacchetto dove il primo gratuito prima e seconda missione sette gettoni motore gettoni motore ancora un pacchetto gratuito altri cinque bene poi ci sta una partita finale con questa probabilità 4 stelle ed è bersaglio singolo calci di rigore questa non è tanto semplice andiamo a fare questa qua ragazzi speriamo di riuscire al primo tentativo si sta caricando la partita sono i bersagli di calcio di rigore molto molto difficile questo ragazzi eh da non sottovalutare il primo tiro sembra buono buono il primo andiamo col secondo che sembra buono anche il secondo e c'è c'è il secondo vediamo se c'è anche il terzo ah troppo alto leggermente troppo alto fallisco il terzo andiamo nel quarto quarto sembra buono vediamo si siamo a 3 su 4 ah questo è sbagliatissimo abbiamo altri due tiri se non sbaglio devo farne almeno uno no un altro un altro sbaglio clamoroso non posso permettermi di sbagliare questo che non lo sbaglio 4.000 punti sono sufficienti va benissimo completiamo a primo colpo non semplicissimo questo allenamento prendere quei bersagli con le sagome in movimento che danno fastidio quindi ancora 10 gettoni eroi mille di moneta andiamo a fare l'altra probabilità questa 5 stelle dribbling oggetti dopo di che ci resta solo la partita insieme alla pubblicità e questa non è semplicissima ragazzi eh proviamo a farla subito vediamo ci va vai ci serve il gettone blu no mezzo errore ancora un errore perdo tempo non posso perdere così tempo finisce qua però riesco a superarla ragazzi agilmente easy easy ragazzi quindi abbiamo messo 5 minuti per completare tutte le missioni ci resta pacco gratuito qui che lo andiamo a prendere subito ancora 5 gettoni motore la pubblicità che me la andrò a vedere dopo e andiamo a fare questa partita che parte dal sessantesimo minuto per completare tutte le missioni farò anche la pubblicità ragazzi quando chiudo il video vedi ragazzi se siete arrivati a questo punto del video lasciatemi un like che è molto importante per il mio canale quindi si parte dal sessantesimo con una squadra nettamente superiore genero 85 l'avversario contro genero 93 quindi si parte andiamo a mettere modalità offensiva andiamo molto bene va mosto voi che non riesce a segnare peccato quindi ma se continuano di questo passo il gol lo facciamo holland de bruyne di fatti arriva subito il gol quindi easy questa qua anche easy bisogna avere una buona squadra giustamente perché se sei al di sotto di livello generale avrei di sicuro qualche problema in più ad affrontare questa partita vai o cocia che va a regalare la palla al portiere avversario ossia dudek comunque non ci servono i gol ci serve solo vincere quindi basta l'1 a 0 ci basta andiamo a fare qualche sostituzione giusto per per rendere un po' di tempo mettiamo Vinicius facciamo entrare anche Mascherano e Garrincia facciamo tutti e tre le sostituzioni nel centro campo vediamo che qui ho holland ci metto un dito vediamo se segna si 2 a 0 facciamo anche le sostituzioni si può dire che in 20-30 secondi ancora la partita è finita siamo con il timer a 8 minuti quindi per completare queste missioni qua aggiungiamoci la pubblicità dopo e l'intro diciamo che ci vogliono più o meno 9-10 minuti anche sulla seconda finestra quindi arriveremo a un complessivo di 20 minuti per completare entrambe le finestre nella sezione ROI quindi andiamo a riscuotere a riscuotere quest'ultima ricompensa costi 8 gettoni e ancora mille monete completata anche questa sezione ragazzi spero che il video vi sia piaciuto ricordatevi di iscrivervi al canale ci vediamo nel prossimo video dove andiamo a vedere un'altra finestra cioè trick, beas o il direttore quindi bella a tutti ragazzi ecco